Il comune di Calcinaia ha investito moltissimo sia in termini di tempo che di risorse economiche sulla nuova scuola di Fornacette, i cui lavori di realizzazione procedono a grande ritmo per concludersi entro l'inizio del prossimo anno scolastico. Un edificio pensato, studiato e voluto per consentire una perfetta didattica a bambini ed insegnanti, ma che strizza anche un occhio all'ambiente e all'efficientamento energetico, tanto da suscitare l'interesse anche degli esperti di Casa Clima. Di tutto questo ci parla comunque con dovizia di particolari l'assessore all'istruzione del comune di Calcinaia, Maria Ceccarelli. Cari cittadini, buongiorno. La scuola di Fornacette ormai è arrivata a buon punto. Abbiamo fatto la copertura e ormai sono iniziati i lavori all'interno della scuola. Questa scuola sarà una scuola aperta al territorio. Al piano terreno avremo una grande sala polivalente dove i nostri ragazzi potranno fare attività motoria, dove potranno essere svolti anche convegni, incontri anche collegi dei docenti, perché no, incontri con i genitori, oppure anche attività che saranno organizzate dall'amministrazione comunale. Avrà sempre a piano terra una grande mensa, quindi non avremo più problemi di capienza per le attività di mensa, una grande mensa che potrà ospitare moltissimi ragazzi, quindi anche questa sarà un locale che potrà essere comunque sfruttato dal territorio. Sempre a piano terreno, oltre alle aule didattiche, avremo tre laboratori. Ogni laboratorio è dotato di un bagno ed ha l'accesso sull'esterno, per cui potrà essere usato anche questo per attività organizzate sia dall'amministrazione comunale sia da associazioni del nostro territorio, oltre che naturalmente dalla scuola. Lo stesso al piano di sopra, altri tre laboratori, poi tutte le aule didattiche, una grande stanza per gli insegnanti dove gli insegnanti potranno programmare, potranno incontrarsi, discutere e potranno svolgere tutte quelle attività che sono necessarie per un buon andamento della scuola. La scuola presenta all'esterno anche vasti spazi per il gioco, per l'incontro, per rilassarsi anche e quindi è una scuola che presenta delle caratteristiche veramente ottimali dal punto di vista pedagogico e didattico. naturalmente è anche una scuola che è stata costruita con una grande attenzione verso l'ambiente, è una scuola completamente di legno, sarà classificata da Casaclima e presto anzi avremo un incontro con esperti di Casaclima che verranno appunto a visitare la nostra scuola e quindi è una scuola che diciamo è il nostro orgoglio, ecco lo posso dire con grande soddisfazione è il nostro orgoglio, ci abbiamo lavorato tanto e ormai siamo a buon punto quindi l'appuntamento è per settembre per l'inaugurazione e sarà festa, festa per tutti. Grazie 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 Grazie